buongiorno buongiorno stamattina il tempo non è un granché al mio risveglio però non ci sono problemi usciti dal campeggio in bocco subito un bello sterrato perché la finlandia è famosa proprio per queste strade in mezzo alla natura dove come potete vedere sui bordi della strada ci sono solo esclusivamente alberi 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 e un sacco di animali sono sono strade davvero uniche e penso che siano da provare almeno una volta nella vita certo il mio furgone non è proprio il mezzo adatto per queste strade però come ormai saprete non mi fermo davanti a niente finito lo sterrato arrivo in un centro urbano e decido di fare di fermarmi per fare colazione giusto il tempo di fermi un caffè e mangiarmi una brioche mi metto subito in strada oggi entrerò in svezia quindi la strada da percorrere è parecchio lunga attraverso dei punti di strada con dei ponti dei paesaggi davvero mozzafiato passi praticamente da centri città a zone completamente immersa nella natura dove viene raccolto da dei laghi che sono a dir poco mozzafiato arrivo su questo sui cidi di questo lago qua e decido di fermarmi per far giocare un po' teddy nel frattempo le ore passano anche la giornata inizia inizia a finire quindi quasi quasi decido di fermarmi al bordo di questo lago per dormire questa notte nel frattempo mi godo questo tramonto che davvero esagerato penso che ci sono momenti in cui bisogna fermarsi un attimo e godere della bellezza della natura che ci circonda in questi giorni la stanchezza inizia a farsi sentire e quindi ne approfitto quando posso per rilassarmi un pochino vi invito a lasciare un bel like iscrivervi al canale e condividere questo video se vi ha fatto piacere grazie